Il commissario ad acta Maria Luigia Vitagliano, nominata dal difensore civico Giuseppe Fortunato per l'approvazione del regolamento degli organismi di partecipazione popolare al comune di Sassano, si è insediata lo scorso venerdì. Appena arrivata ha fatto richiesta degli atti preparatori all'adozione del regolamento eseguiti dal comune e di una dettagliata relazione da farle pervenire entro dieci giorni. Ma al suo arrivo il segretario comunale le ha fatto presente che il consiglio, il giorno successivo alla sua nomina, il 31 luglio, aveva già provveduto ad approvare il regolamento con delibera dichiarata immediatamente eseguibile e che il 1 agosto la comunicazione dell'avvenuta approvazione è stata inviata alla regione Campania e dunque anche al difensore civico. Il segretario ci ha tenuto a precisare di ritenere inutile ed economicamente dispendioso l'insediamento del commissario ad acta, avendo il comune già provveduto agli adempimenti richiesti. E' ribadito che l'ente dunque non riconoscerà alcuna spesa per l'arrivo del commissario. La dottorista Vitagliano, dal canto suo, dopo aver messo a verbale questi elementi, si è insediata e si è riservata. Dal comune è arrivata la rassicurazione che appena la delibera verrà pubblicata sarà trasmessa al difensore civico regionale. Da parte dei firmatari della richiesta di intervento del difensore civico, trapela un'equilibrata soddisfazione. In una nota stampa fanno rilevare che il Consiglio Comunale di Sassano ha approvato il regolamento il giorno dopo la nomina del commissario e senza che ci fosse un ordine del giorno, come previsto dallo Statuto, che sancisce la necessità di pubblicare l'elenco degli argomenti almeno il giorno prima del consesso. Grazie a tutti.